Buongiorno, buongiorno e bentrovati con Mattino. La nostra rassegna stampa è lunedì 10 agosto e allora auguri a tutti quanti coloro si chiamano Lorenzo perché oggi è San Lorenzo, c'è anche la famosa notte di San Lorenzo. Tutti con il naso all'insù per vedere le stelle. È una settimana che inizia dopo una domenica nella quale ci siamo avvicinati praticamente al fine settimana tipo per quanto riguarda il calcio. Perché sono scese in campo le quattro squadre abruzzesi professionistiche. Il bilancio però è stato negativo. Una sola vittoria, tre sconfitte e di conseguenza tre eliminazioni. Avanza soltanto il Pescara che ha battuto 2-0 il Sud Tirol dell'ex Stropa. E quindi domenica prossima ci sarà la gara in casa del Torino per il terzo turno di Team Cup. Eliminati invece Virtus Lanciano e Teramo con la medesima modalità. Perdendo in casa 2-0, prendendo un gol a metà primo tempo e il raddoppio nei minuti di recupero. Passano il turno Cittadella quindi Juve-Stabbia. Eliminata anche l'Aquila che perde sonoramente a Novara contro il Novara di Marco Baroni per 5-0. Dunque per queste tre squadre finisce subito il percorso di Team Cup. Vi dico che vedremo immagini e interviste delle partite di Pescara, Lanciano e Teramo nella seconda parte della nostra rassegna. Poi nel corso delle edizioni del TG6 vi proporremo anche il servizio della sconfitta dell'Aquila a Novara. Iniziamo ora la nostra rassegna stampa. Come sempre, come tutti i lunedì, dedicando i primi 20 minuti buoni alla cronaca e partendo dalle prime pagine di quotidiani nazionali. Intanto con la Repubblica, ecco qui l'apertura, ripresa il piano B del tesoro, manovra sulle pensioni flessibili, risparmi dal ritiro anticipato dei lavoratori, ritocchi al deficit, disponibili altri 7 miliardi. Poi la polemica, unità Staino attacca, sinistra PD disperata, Cuperlo al guinzaglio di Massimo D'Alema. Gelo della minoranza, riforme, Renzi resiste, non torno indietro. Poi l'inchiesta, gli stipendi d'oro dei dirigenti CISL, cumulo di incarichi da 300 mila euro. Il segretario Furlan, pronte nuove regole, ci sarà trasparenza. La fotonotizia è dedicata all'impresa di ieri del neocampione del mondo dei 1500 stile libero, Gregorio Paltrinieri, oro senza rivali, ero solo, ho avuto paura, mistero sul cinese, favorito che dà Forfè. Chiaramente l'impresa di Paltrinieri troverà grande risalto anche sugli altri quotidiani e chiaramente su quelli sportivi. E poi muore dopo la notte in discoteca, ha bevuto qualcosa ed è crollato, è successo in Salento, aveva 19 anni, tarda l'ambulanza, il sindaco contro le famiglie. C'è l'analisi, lo scarica a barile e la responsabilità. Poi in basso l'appello, il presidente fermi quella legge che fa scempio dei beni culturali. Il caso, Venezia, le foto della discordia, niente mostra sulle grandi navi. Ora la prima pagina del giornale che andiamo a vedere. Chi comanda al Quirinale? Il giallo dei due presidenti, Napolitano trama e briga come fosse ancora sul colle, sfruttando i silenzi di Mattarella. La clandestinità è reato, il ministro non ha firmato l'abolizione. Poi oggi la decisione del giudice, la coppia acida, avrà un figlio ma le verrà tolto appena nato. Il piccolo nascerà il 18 agosto, per legge dopo la condanna non potranno essere i genitori. Poi Gallipoli, 19 anni, è morto dopo la serata in discoteca. La colpa è dello Stato, non dei ragazzi. Polemica sulla frase del sindaco pugliese. Chi non sa educare, non procrei. E poi, revisionismo letterario, eroe, Robin Hood era un corrotto. Crolla un altro mito dell'infanzia. Finale di partita, in basso, Paltrinieri nuota 1500 metri nell'oro. La prima pagina ora del Fatto Quotidiano. Ho messo il velo e vi racconto un altro mondo. Storia di copertina, come reagiamo davanti a una donna con l'abito islamico. Una passeggiata per il centro di Roma con uno dei tradizionali abbigliamenti femminili musulmani. Tra paura, timore, non rispetto delle regole e gli insulti delle forze dell'ordine. E poi, per quanto riguarda alcuni richiami giallisti, tutti insieme i grandi investigatori. Caro Poirot, ecco Dupin, 14 detective a confronto. Poi simboli, quelle stragi degli innocenti in 70 anni di foto. Il Cile oggi, la bella vita del Gestapo di Pinochet. Poi con il Litfiba, in tour, assieme a Piero Ghigo e la politica. E poi, sotto la testata, l'intervista a Gotor. Dobbiamo battere Renzi sul Senato, altro che fare scissioni. La riforma è pericolosa e va fermata. E poi nuova tragedia, discoteche, l'estate nera. Muore 19 nel Salento. I gestori dicono soccorsi tardivi. E ora andiamo a vedere la prima pagina del messaggero. Che apre così. Il tempo di effettuare il caricamento della prima pagina. Sgravi per le imprese al sud. Nella manovra da oltre 33 miliardi. Meno tasse per le aziende che assumono nel mezzogiorno. Tagli di tre punti ai contributi. Pubblica amministrazione, 30 giorni per il silenzio assenso. In arrivo mille dirigenti giovani. Poi lo sport sotto la testata. Dopo Valencia, la Roma riscopre il suo gervigno per la difesa. Idea ranocchia. Nuoto, Paltrinieri da urlo. Domina i mille e cinque stile libero. E vince l'oro mondiale. L'editoriale di Giulio Sapelli. La proposta pro di subito l'asse Roma-Parigi contro il blitz di Berlino. Riforme, rischio scissione. Renzi, i ribelli sono senza futuro. Bersani, Cicacci. Ma prepara il dopo. La fotonotizia ancora dedicata al dramma occorso nel Salento. Muore all'alba a 19 anni. Nuova tragedia in discoteca. Dopo il Cocoricò, dramma nel Salento. Crolla a terra davanti agli amici. La vittima, Lorenzo Toma. La discoteca dove è avvenuto il fatto il Guendalina. Guerra allo sballo. Viminale, pronte nuove misure. Daspo nei locali. Poi volevano uccidere la regina Elisabetta. sventato piano dell'Isis. Possiamo ora approdare al centro per iniziare la rassegna dei fatti di casa nostra. Quindi iniziamo con il centro che apre così. Rumori in città esposto in procura. Piazza Primo Maggio raccolta di firme dei residenti contro la Musica. Siamo chiaramente a Pescara. Vedete sotto la testata si parla ancora della tragedia in Salento. Del morto in discoteca e dell'oro mondiale di Paltrinieri. E poi il caso analizzato da Antonio De Frenza. L'allarme. Se i cinghiali ci invadono è soltanto colpa nostra. La fotonotizia. Valotti e Torreira. Il Pescara vola e lancia la sfida al Torino. Battuto il Sud Tirol prossimo turno contro i Granata. La cronaca. Montesivano spaccata all'Iper e allarme sicurezza. Mercato area di risulta. Traslogo dei senegalesi. Sale la tensione. E poi l'acca avverte. Mare inquinato. La condotta può rompersi ancora. Ancora la cronaca. Sul Gran Sasso. Mamma muore in montagna. Famiglia Terramana travolta. Salvi marito e due figli. Il buongiorno Abruzzo. E si parla del brodetto vastese. Il pomodoro mezzotempo. Salva il brodetto. Nel buongiorno Abruzzo di Rossano Orlando. Andiamo a pagina 2 e pagina 3. Del centro. L'invasione. Si parla dell'invasione dei cinghiali. Sono tanti voraci e aggressivi. E ora i cinghiali fanno paura. Si moltiplicano i racconti di incontri ravvicinati nei centri urbani. Sulle strade e persino in spiaggia. Gli agricoltori lamentano danni crescenti alle colture. La regione ha dato il via alla caccia selettiva. Dopo la tragedia di Cefalù. Anche in Abruzzo si riapre il caso. I cinghiali sono 150 mila. E sono sempre più pericolosi e invadenti. E poi ancora parlano alle istituzioni. In particolare il presidente della provincia di Pescara. Antonio Di Marco. Che dice estendere nelle aree protette. Le attività di controllo. Padovani dice servono a poco sistemi come le gabbie di cattura. L'animalista. Eliminarli non è la soluzione. Diventerebbero più prolifici. Se ci sono cuccioli normale che reagiscono. Queste le parole di Raimondo Silveri. Appunto sul fronte animalista. Poi ancora. Giovane mamma muore sul Gran Sasso. L'Aquila famiglia Talamana travolta da acqua e detriti durante una escursione a Monteprena. Salvi marito e due figli. E poi ancora il dibattito sulla giustizia giusta. Parla Armanda Servino in questo caso. Giudice della Corte d'Appello dell'Aquila. Solo un processo scelere può garantire i cittadini. Una sentenza che arriva in ritardo. E una sconfitta per l'istituzione giudiziaria. La prescrizione è una ferita gravissima nel nostro sistema. E va riformata. Poi alcuni punti toccati nell'intervista. Depenalizzare alcuni reati. Vanno utilizzati per corsi processuali alternativi. In parte già in vigore. Come l'ha messa alla prova il lavoro di pubblica utilità. I processi mediatici. Imbastire in televisione. Processi nei processi. Credo faccia male alla giustizia. All'opinione pubblica. È la stessa informazione. Separazione delle carriere. Io sono contrario alla separazione delle carriere tra PM e giudici. Da cittadina diffiderei di un PM. Troppo poliziotto. E poi ancora Pienone a Ferragosto presenza è più 25% stop al mordi e fuggi. Sondaggio di CNA balneatori nelle 19 località costiere. Tomei è la migliore stagione degli ultimi anni. E poi in basso certificare disturbi dell'apprendimento sarà più semplice. Nelle pagine di Pescara uno dei fatti del momento. Sono due gli argomenti che impazzano la balneabilità. E lo sgombero del mercatino senegalese nell'area di Risulta. E proprio di quest'ultimo caso ci si occupa in questo articolo. Tensione dal mercatino ma il trasloco va avanti. I senegalesi chiedono più tempo per lasciare l'area vicina alla stazione. Ma c'è chi protesta. Ci cacciano dopo 20 anni. Questa non è democrazia. Poi le parole di Selli. Il comune fermi l'intervento di polizia e vigili. Questo dice Sinistra Ecologia e Libertà. Poi notti insonni per i rumori. C'è un esposto in procura. Piazza Primo Maggio raccolta di firme dei residenti per chiedere maggiori controlli e verificare violazioni penali. Purtroppo in questa zona non ci sono più regole. che dicono i residenti. Poi sempre sul mercatino ci sono le parole del sindacalista Patrick Guobadia. Il compito del comune è risolvere i problemi e non crearli. Moreno di Penantonio del PD. Dobbiamo trovare la collocazione migliore per loro. L'assessore Cuzzi valuteremo due o tre aree dove trasferire il mercato. Poi la balneabilità e quindi si parla appunto della condotta rotta di via Riale che si può rompere di nuovo. L'ACA lancia l'allarme per l'impianto che ha sversato a fine luglio l'Iquami in mare. Forza Italia chiede la convocazione di un consiglio straordinario sull'inquidamento. E poi si parla di eventi. Eventi estivi proliferano in questo momento proprio a ridosso del Ferragosto. In Migliaia per la sfilata storica la fiera. Sabato la perdonanza e il mastro giurato per le vie del centro. Ieri le bancarelle in corso vittorio. Poi a Penne la notte in bianco fa il pienone. Centro storico invaso da musica, stand enogastronomici e ballerini. E poi notte bianca degli sposi, una torta gigante per il fatidico sì. Intanto è la manifestazione in piazza Salotto dedicata alle nozze e quindi a Pescara. Torniamo però alla cronaca. Spaccata all'iper e allarme sicurezza. Montesivano dopo il maxifurto in casa svaliggiata una profumeria. Il vice sindaco dice serve il doppio delle forze dell'ordine. A Villa Cipressi di Città Sant'Angelo incendio doloso, due ettari a fuoco. Il rogo all'ambito alla provinciale. Pompieri al lavoro per più di due ore. La pagina di Chieti con le parole del primo cittadino Umberto Di Primio. Devo aumentare menze scolastiche e acqua. Il piano lacrime e sangue. Dunque varato dall'amministrazione comunale di Chieti. Sarà l'anno più impopolare del comune ma i politici non si riducono gli stipendi. I debiti superano i 36 milioni ma l'81% dei cittadini è moroso. I grandi eventi si salvano dai tagli a condizione che i privati si dierono da fare. Il primo cittadino fa l'esempio del Blue Bar di Francavilla. La risposta al PD. Ereditiamo una situazione debitoria da cucullo in poi. Ogni dirigente ci costa 100 mila euro. E poi il leader di giustizia sociale Bruno Di Paolo oggi in una conferenza stampa parlerà di predissesto. In basso in 4 mila cantano con i ragazzi del volo. Applausi e risate per il siparietto in abruzzese del trio. L'ingresso affidato al rosetano Ginobili. Il volo che si è esibito all'anfiteatro della Civitella a Chieti. Pagina aquilana. Ragazza in scooter muore nello schianto. La giovane è trovata agonizzante lungo le svolte di popoli degli organizzatori della cronoscalata. Il decesso in ospedale. Ignote le cause. La dinamica secondo i carabinieri è anomala. E per questo vogliono vederci chiaro. E non tralasciano alcun indizio. Salva per miracolo dopo l'esplosione. Incendio provocato da una bombola. L'anziana era appena uscita per andare dal figlio. Ipotesi dolo. Tutto questo è avvenuto ad Avezzano. Andiamo ora a Teramo. O meglio nel Teramano a Corropoli. Si tuffa in piscina nell'acqua bassa. E batte la testa. Grave un 38enne. L'incidente è avvenuto in un agriturismo. L'uomo, un filippino, ha riportato un forte trauma cervicale ed è stato sottoposto all'intervento chirurgico. Rischia la paralisi agli arti superiori. E poi è fermato un rave party. 40 denunce. Carabinieri e polizia interrompono il raduno ad Acqua Chiara a Teramo. Niente droga. Solo reati ambientali. A Martinsicuro. Agenti pestati si scusa. Il console del Senegal sono fortemente dispiaciuto. Solidarietà ai carabinieri e alla polizia municipale. Lasciamo le pagine del centro dove torneremo per lo sport più tardi. Passiamo ora al messaggero Abruzzo con la prima pagina dedicata a quanto accaduto ieri a Popoli. Muore sul ciglio della strada ed è giallo. Giovane Sulmonese è trovata all'alba agonizzante sulle curve di Popoli. Inutili soccorsi. Lo scooter era in mezzo alla carreggiata. Scatta l'inchiesta. L'ipotesi incidente o auto pirata. E poi sotto la testata vediamo Coppa Italia. Il Pescara avanza. C'è il Torino. Valotti e Torreira firmano la vittoria contro il Sud Tirol. Teramo passa il Cittadella. Biancorossi ancora imballati. Lanciano la Virtus Stecca si qualifica la Juve Stabia. Poi ancora Rocca di Mezzo, Piera degli Esposti, spettacolo revival per ripercorrere la lunga carriera. A Pescara il balletto di Roma omaggia dalla C'è Futura al D'Annunzio. MotoGP troppo forte il poker di testa. Iannone finisce ottimo quinto a Indianapolis un'altra prova di grande sostanza da parte del pilota vastese della Ducati. Il successo va a Marquez. Poi caso Abruzzo Engineering uno su cinque trasferito in provincia. 36 dipendenti passeranno al genio civile per il notevole lavoro sul rischio idrogeologico. La fotonotizia, bomba d'acqua travolta e uccisa una donna, famiglia sorpresa sul Gran Sasso. E poi ancora Ruspa trancia una condotta a Costa Terramana senza acqua. Tutto questo è avvenuto a Giulianova. E poi l'Aquila da Casa dei Pastori a rifugio per i VIP. Entriamo all'interno del messaggero. Tra poco ci sarà anche il break meteo. Ma vediamo prima un paio di pagine del messaggero. Abruzzo, bomba d'acqua, famiglia sorpresa sul Gran Sasso. Muore la mamma. La donna sarebbe stata travolta da una cascata di sassi. La figlia di 12 anni viene mandata a cercare aiuto. I soccorritori salvano i due superstiti con elicottero e verricello. E poi mandolò sul Gran Sasso un rifugio per VIP. Una giovane coppia ha trasformato la vecchia struttura. E poi, come abbiamo visto con il titolo d'apertura del messaggero Abruzzo, trovata sul ciglio della strada, muore 31enne l'episodio lungo le svolte di popoli che di lì a qualche ora avrebbero poi ospitato la tradizionale cronoscalata. Quando all'alba di ieri è stata soccorsa vicino al suo scooter sulla carreggiata, Claudio Ottaviani era ancora cosciente. Non si esclude che a causare lo schianto possa essere stata un'auto pirata. Disposta l'autopsia. Break Meteo, do il buongiorno a Giovanni De Palma. Buongiorno Giovanni. Buongiorno Andrea, buongiorno a te e a tutti i telespettatori. Subito le ultime. Su Italia il tempo è in peggioramento. La vasta e persistente area di alta pressione, che fino a qualche giorno fa ha garantito tempo stabile, ma anche temperature molto elevate anche sulla nostra regione tende ad attenuarsi perché è in arrivo una perturbazione che già in queste ore sta dando luogo a forti temporali sulle nostre regioni settentrionali e sulla Toscana. Peggioramento caratterizzato dall'arrivo di una perturbazione da un nucleo di aria piuttosto fresca proveniente dal vicino Atlantico che nelle prossime ore scivolerà verso le regioni centro-meridionale e terreniche e quindi favorirà un deciso peggioramento del tempo anche sulla nostra regione dove dalla tarda mattinata inizieranno a formarsi degli annuvolamenti, dei temporali anche di forte intensità a partire dalla Marsica, dall'Aquilano e sulle zone montuose in estensione poi nel corso del pomeriggio sera verso il settore orientale della nostra regione e i fenomeni potrebbero interessare stavolta anche la fascia costiera dove potrebbero anche risultare piuttosto intensi data l'elevata energia in gioco. Peggioramento che continuerà a manifestarsi fino a stasera anche se ci sarà un'attenuazione comunque dei fenomeni in serata e in nottata ma domani continuerà a persistere l'instabilità perché continuerà l'azione di questa perturbazione sulle regioni in spostamento verso le regioni meridionali e quindi ci sarà spazio a nuovi addensamenti, a dei rovesci, a dei temporali stavolta più frequenti sul versante orientale della nostra regione. Quindi una situazione che favorirà anche una decisa diminuzione delle temperature rispetto ai giorni scorsi che però poi lascerà spazio un graduale miglioramento delle condizioni atmosferiche a partire da mercoledì ma ancor più nella giornata di giovedì. Poi Andrea c'è una tendenza non proprio positiva per quel che riguarda la giornata di ferragosto perché alla luce dei dati attuali a nostra disposizione sembra possibile l'arrivo di una nuova perturbazione aplantica diretta proprio verso le regioni centro-settenzionali della nostra penisola e quindi non si esclude un peggioramento del tempo proprio nella giornata di ferragosto ma di questa situazione ne riparleremo diffusamente nel corso dei prossimi aggiornamenti. Bene, quindi mi hai anticipato la domanda, ti avrei chiesto qualcosa sul ferragosto e già ci hai detto quello che si può dire in questo momento in attesa di ulteriori valutazioni. Allora io viro sul fatto sportivo, ho visto una foto sulla tua bacheca di Facebook, si rinizia. Ti sei divertito ieri, sei soddisfatto di questo Pescara su Tirol 2-0? Sì, soddisfatto perché innanzitutto anche se si tratta di un calcio d'agosto si sono viste buone combinazioni dal centro-campo in su insomma ho visto veramente un Vupusic molto volenteroso che ha sacrificato molto, è stato anche scostunato in alcune occasioni ma forse anche un po' per la fuga di fare bene insomma ha commesso anche qualche piccolo errore di controllo palla comunque è una percezione positiva. Hai visto anche il colpo dello scorpione di Valoti? Ma è bellissimo, ma Valoti è un giocatore di un'altra categoria quindi ieri ha dimostrato, pur trattandosi di calcio d'agosto ha dimostrato veramente le sue qualità insomma è stata una bellissima prestazione qualche incertezza di troppo in difesa ma ci può stare adesso avanti con il Torino insomma speriamo che si ripeta un po' quello che è successo l'anno scorso per l'agosto ce la giochiamo Allora Giovanni io ti invito a non lasciarci perché tra una decina di minuti comunque dopo la pubblicità vedremo le immagini della partita e anche le interviste ai due allenatori quindi resta sintonizzato per il momento ti auguro una buona giornata Grazie Andrea auguro una buona giornata anche a te così come l'auguro a tutti i telespettatori di TV6 Grazie, grazie a Giovanni De Palma proseguiamo la nostra rassegna stampa a Chietis il messaggero stessa spiaggia ecco i Chietini che non tradiscono Franca Villa dopo lo sgarbo di Primio l'estate riscopre l'affetto autentico per la località da Marisa Tiberio a Paolo De Cesare tanti volti noti del colle sotto l'ombrellone vengo qui da sempre ricordo quando c'erano granchi e cavallucci marini dice il ristoratore Alessandro Nives poi al liceo Masci salta l'adeguamento sismico la provincia non ha soldi e perde il finanziamento regionale da 820 mila euro mentre alla riserva di Punta Derci quindi a Basto c'è un autentico assalto dei visitatori a Teramo se mancano sedie e banchi le scuole se le scambieranno Scuolabus pubblicato il bando per la gara d'appalto nel servizio di trasporto pubblico linee accorpate e tariffe secondo il reddito l'assessore Romanelli ha incontrato i dirigenti scolastici dei pressi comunali per invitarli a una sorta di patto di solidarietà e poi costa a secco per un guasto bomba d'acqua sui monti guai dopo la rottura di una condotta per lavori sul Borsacchio a Isola sfiorata la tragedia per la piena che ha colto tutti di sorpresa ci fermiamo qui per quanto riguarda il messaggero andiamo a vedere ora la gazzetta dello sport quindi apriamo l'ampia pagina sportiva come detto nella seconda parte le immagini e le interviste delle tre partite delle squadre di Serie B ieri impegnate in Team Cup chiaramente grande risalto all'impresa di Gregorio Paltrinieri oro nei 1500 stile libero ai mondiali di Kazan ecco qui l'oro di Greg Paltrinieri da favola col mistero cinese il dodicesimo titolo mondiale del nuoto azzurro senza il favorito dovevo vincere per forza Sun Yang non parte problemi cardiaci ma si parla di rissa con una donna ecco qui questa bella foto di Gregorio Paltrinieri vincente appunto ieri a Kazan c'è anche il calciomercato il Milan finalmente canta Romagnoli mio Sinisa è stato accontentato avrà il centrale che tanto gli piace alla Roma vanno 25 milioni più bonus l'analisi di Carlo Laudisa è caro ma non è una follia sempre mercato la Roma si muove per Ranocchia Lazio Keita rompe Inter in agguato in mille per il ritorno Samp Cassano Mania mi siete mancati e poi tornando all'impresa di Paltrinieri il commento di Fausto Narducci la stessa classe di Federica in basso alcuni richiami con la MotoGP rimontona Rossi e terzo e resta leader Indy e Di Marquez dopo Shanghai ecco Di Bala si è preso la Juve ora dritti su Draxler e poi arbitri nuove direttive Messina dice stoppa i blocchi in area febbre Supercoppa orecchioni per Neymar e Rami con la Salmonella scandalo doping e l'atletica mondiale Albi d'oro da riscrivere e allora ecco l'impresa di Gregorio che diventa Gregoro si gioca sulle parole Mistero Sun Paltrinieri domine 1500 inizia la sua era finale surreale il cinese non si vede mai e blocchi l'azzurro super è record europeo e poi in basso Morini avverte l'allenatore di Paltrinieri con la testa è già pronto per l'Olimpiade e poi ancora appassionato di NBA e quindi non può che essere un vincente aggiungiamo noi Tiffany X e Juve accetta il KO solo con detti alla play Gregorio è decisionista e lottatore dice la mamma il futuro è fuori dall'acqua vorrei fare l'imprenditore dice appunto Paltrinieri e poi ancora che paura senza Sun mi sentivo perso senza di lui l'assenza del più forte mi ha messo tanta responsabilità addosso a quel punto dovevo vincere per forza fortuna che ci sono riuscito e poi ancora ecco qui l'affare di queste ultime ore Romagnoli va al Milan per 25 milioni più bonus accontentato Sinisa ora può fare sul serio a forza dei marmi Gagliani e il DS della Roma Sabatini hanno definito con la gente il trasferimento del difensore forse in campo già al trofeo team e poi ancora sul fronte Inter Jovetic ecco la scintilla e Roby sa come tenerlo acceso la Lazio dopo la sconfitta in Supercoppa Keita vuole il divorzio Mancini sogna di prenderlo e poi questo fatto che ha fatto molto discutere la produzione della gara di Supercoppa a Shanghai produzione TV Flop la Lega avvisata ma ha sottovalutato l'allarme Supercoppa regia imbarazzante quella che si è vista per la gara di Supercoppa e Paolo Pare Carlitos di Bala Promosso al primo esame Juve la Supercoppa con gol ha fugato i dubbi l'Argentina è sulla strada giusta e le urla di Allegri lo fanno crescere sul fronte mercato Sichera si chiude in 48 ore poi nuovo assalto a Draxler andiamo avanti a vedere le pagine intanto dell'intervista esclusiva al designatore Messina blocco ai blocchi stop alle giocate sporche in area il designatore Messina allena gli arbitri sulle tattiche di disturbo usate su calci d'angolo e punizioni ma aggiungiamo noi non sarà facile poi limitare queste giocate per il calcio estero la sorpresa è la sconfitta interna dell'Arsenal fresca vincitrice della Cerity Shield sul Chelsea colpo West Ham delusione Arsenal tradito da Cech ottimo Nogbon nonostante l'ammunizione parte bene anche Pellè un gol al Newcastle e poi ancora andiamo a vedere la Coppa la Team Cup intanto questo titolo dedicato a Federico Melchiorri che ora incanta Cagliari Cagliari a Raffica Melchiorri show travolta Lentella ottima prova della squadra di Rastelli bastano 45 minuti per qualificarsi 5 a 0 il finale e poi per quanto riguarda il fronte abruzzese Cittadella ok Teramo fuori Bizzotto migliore in campo per lui voto 7 e poi ancora Juve Stabia che è impresa con la vittoria a Lanciano per 0 a 2 migliore in campo Arcidiacono nella squadra stabiese con un voto che appunto è 7 e poi ancora il Pescara Granvaloti Pescara ride 7 e mezzo per Baloti e poi il calcio tra il giocato e l'inchiesta il posticipo il Catania gioca e poi il Lega Pro Abodi dice che è poco sono parole molto dure quelle usate da Abodi qualora dovesse essere ratificato quanto già riportato nei giorni precedenti questa sorta di patteggiamento che permetterà al Catania di giocare in Lega Pro con una forte penalizzazione chiudiamo con il moto mondiale Rossi Fiu Marquez piega Lorenzo riscossa vale e terzo l'iridato sfera d'attacco a tre giri della fine quinta vittoria Indi il dottore Radrizza del weekend resta leader più 9 su Orge Mark si riscopre stratega o aspettato in scia poi è scattato l'assalto Iannone compleanno agrodolce primo degli umani ma la Ducati fa passi indietro Dovizioso si salva in extremis mentre Rossi dice ho limitato i danni 10 senza lode decimo podio del 2015 persi pochi punti su Lorenzo e Mark ci fermiamo qui andiamo in pubblicità poi rientriamo proseguiamo la nostra rassegna stampa ma soprattutto vedremo immagini e interviste delle gare di Team Cup di ieri sera Di nuovo buongiorno riprende la rassegna stampa di mattino 6 in questo lunedì 10 agosto e allora il Corriere dello Sport grande spazio all'operazione di mercato del Milan Milan Romagnoli alla Roma 25 milioni prenderà 3 difensori nell'affare pure 5 milioni di bonus Garzia avrà digne ma servono due centrali Bianche Iangambiua obiettivi Fermailen e Tonelli sotto la testata la Juve non si ferma Goetze Gundogan dopo la Supercoppa in arrivo due rinforzi e poi alcuni richiami Cassano Samp con Ferrero sarà uno show Inter su Quentrao e il Napoli prova per Juan Gesù Coppa Italia il Cagliari vola Bari che Tonfo quindi la favola d'oro di Paltenieri che nuota sul mondo a lui dedicata la fotonotizia in basso MotoGP India India Napoli Supermarkets Valentino Terzo dietro arriva Lorenzo andiamo a vedere alcune pagine del Corriere dello Sport il Napoli Scuola Sarri sì questo Napoli ha cambiato testa il 4-3-1-2 prende forma la squadra sta imparando a ragionare come il suo tecnico la difesa funziona sul fronte mercato il Napoli sceglie Juan Jesus si può o economu al Bivio e poi Cassano e Ferrero show assicurato sfrontatezza irriverenza 2.000 vaganti ne vedremo delle belle poi bisognerà vedere se saranno delle belle veramente tra Fanta Antonio e Dervi Peretta unione esplosiva litigheranno e balleranno Ferrero ha quasi imposto Cassano ieri accolto da una ovazione dei suoi tifosi sono felice dice appunto Cassano rapido sguardo la Team Cup il Pescara va ci pensano Valotti e Torreira nel pezzo firmato anche dal nostro Paolo Renzetti si racconta appunto della vittoria del Pescara 2-0 sul Sud Tirol è andata male invece le altre squadre abruzzesi il Cittadella non perdona il Teramo saluta la Coppa sblocca Bizzotto tra i migliori in campo questo ragazzo un attaccante classe 96 di Belle Speranze Juve Stabia già in forma Lanciano no i campani vincono in Abruzzo con le reti di Gomez e di Gatto l'Aquila invece crolle il Novara si scatena 5 gol e ora l'Udinese l'Aquila che ha tenuto bene nel primo tempo sotto solo la fine per un gol quello di Signori poi è arrivata la goleada del Novara di Marco Baroni nella ripresa il posticipo il Catania gioca su due fronti puntini puntini lasciamo il Corriere dello Sport e andiamo a vedere il centro ripartendo chiaramente dalla vittoria del Pescara vediamo il titolo appunto del centro sulla vittoria 2 a 0 dei Biancazzurri avanti Pescara la linea verde funziona Sud Tirol KO ora il Toro due squilli di Valoti e Torrera 40 anni in due lanciano il Delfino le interviste Oddo avanti così Vukusic benissimo l'allenatore contento della punta dell'oggia Valoti a colpi importanti e a proposito di Valoti è già una garanzia Pescara voglia andare in A il trequartista arrivato dal Verona è il più in forma della squadra Biancazzurra noi protagonisti in campionato qui c'è gente che vuole fare bene poi Stroppa l'ex e il Croato può fare grandi cose poi ancora le pagelle tutte sufficienze c'è un 7 a Torreira e un 7 a Valoti chiaramente nella valutazione molto positiva pesa anche il fatto che i due hanno trovato la via del gol 6 e mezzo anche per Selassie la Padula e Vukusic e allora andiamo a vedere i riflessi filmati di Pescara su Tirol Pescara in campo con Fiorillo tra i pali poi Zampano Zuparic Fornasiere Mignanelli possono partire le immagini della partita tra Pescara e su Tirol dunque in difesa Zampano Zuparic Fornasiere Mignanelli Selassie Torreira e Verre i tre di centrocampo Valotti dietro le due punte la Padula e Vukusic quest'ultimo schierato a sorpresa al posto di Sanzovine ecco l'undici Biancazzurro che al sedicesimo trova il gol con questo pallone indirizzato in avanti per la Padula che cerca di superare il portiere Miori che interviene poi subenta nell'azione Valotti che con grande destrezza e tecnica riesce a infilare l'estremo difensore del Suttirol dopo aver evitato un difensore e il gol del vantaggio che arriva al sedicesimo minuto del primo tempo poi il Pescara avrà nel finale di frazione una importante opportunità una bellissima azione tutta di prima con la conclusione di Valotti in realtà qui siamo al venticinquesimo e poi ecco questa è l'azione del primo minuto di recupero che porterà alla conclusione uno degli ultimi arrivati Valerio Verre tiro deviato in calcio d'angolo qui siamo nella ripresa guardate questa azione guardate che cosa combina Valotti il colpo dello Scorpione sarebbe stato un gol fantastico il colpo di tacco proprio con un movimento classico definito colpo dello Scorpione la palla però picchia contro la traversa era il primo minuto della ripresa ma al quinto arriva il raddoppio azione tambureggiante del Pescara risolta alla fine da Torreira con questo tocco di giustezza sotto le gambe di Miori per il raddoppio del Pescara la gara sostanzialmente finisce qui e infatti andiamo direttamente al triplice fischio di Valerio Marini di Roma 1 dunque il Pescara batte il Suttirol per 2 a 0 davanti ai quasi 4.500 spettatori dello stadio teoretico Cornacchia chiaramente migliorata la cornice di pubblico rispetto agli spalti semi deserti dell'amichevole col Sassuolo anche a causa dei prezzi alti in questo caso prezzi davvero molto molto popolari e ora scendiamo in sala stampa per ascoltare le parole di Massimo Oddo e del grande ex Giovanni Stroppa da non perdere anche un curioso siparietto con il nostro Paolo Renzetti vediamo ma va bene era importantissimo secondo me vincere perché nonostante non abbiamo fatto una bella partita la curva ci ha preso il dito quindi questo vuol dire che anche la curva si aspettava una partita non esaltante ma penso che faccia parte della normalità non ho visto gli altri risultati di primavera ma sono pronta a scommettere qualche risultato strano c'è stato come è normale che sia anche soli i 90 minuti sulle gambe in più che aveva su Tirol si sentono oggi ci sono tutti i giocatori che non hanno mai fatto 90 minuti lo hanno fatto in 7 praticamente e quindi non era facile siamo all'inizio abbiamo trovato una squadra che all'improvviso ci ha cambiato modulo perché si doveva presentare 4-3 abbiamo fatto fatica un po' all'inizio al primo tempo perché ovviamente fino adesso non ho avuto modo di provare le diverse soluzioni giocare contro una difesa a 5 una difesa a 3 e abbiamo preparato quella partita abbiamo fatto un po' fatica perché insomma dalla panchina se non prepari prima durante i lamenti fai fatica a spiegare determinate uscite infatti tante volte le abbiamo fatto discretamente altre volte un po' fuori tempo abbiamo preso qualche contropiede ci sono state anche note positive anche dei singoli conferma di Torreira Valotti Vukusic molto bene sono molto contento perché ha fatto una partita un'ottima partita secondo me è stato tra i migliori un po' sfortunato su qualche rimpallo però sono contento di tutti difesa qualche errore probabilmente soprattutto nel primo tempo sì sì molti errori molti errori dovuti al fatto che ogni tanto andavamo un po' fuori tempo sulle uscite volendo essere aggressivi e ogni tanto abbiamo preso qualche contropiede di troppo e ovviamente la difesa va in difficoltà e poi se ci mette anche qualche errorino che fa è normale sono tutte cose che si possono limare sì diciamo che nel nostro miglior momento c'è stato il gol del Pescara dopodiché abbiamo allentato un po' e poi abbiamo fatto la partita come dovevamo farla pensando di poter migliorare migliorare le prestazioni che abbiamo avuto fin qui ci sono stati dei fischi quando è stata letta la formazione è stato letto il nome di Stroppa ma perché ma perché andate sempre a prendere cose negative la domanda era questa io ero negli spogliatoi sereno e tranquillo a preparare la partita basta basta quello che è stato Stroppa si riesce a dare una spiegazione di perché i tifosi non me la darò mai se non me la date voi quindi i problemi sotto questo aspetto non ci sono non ci sono non voleva essere una domanda polemica però stiamo parlando della partita siamo in un momento sereno andiamo sempre a trovare qualcosa che no è il nostro lavoro sì perfetto bene conclusione con un sorriso in questo confronto tra Giovanni Stroppa e il nostro Paolo Renzetti sempre per il controllo di Pescara ma vedendo il messaggero Pescara missione compiuta i biancazzurri battono il sui tirol dell'ex Stroppa con le reti di Valotti e Torreira e superano il turno qualche affanno nel primo tempo poi controllo tranquillo della gara il 16 agosto la sfida col Torino squadra in crescita sempre aggressiva ma manca ancora un po' di equilibrio buone risposte dagli attaccanti a proposito degli attaccanti Mercato Caputo e Galano un passo verso l'Adriatico i due hanno chiesto di non giocare per non compromettere la cessione ma in pol restano Falcinelli e Boaci Oddo sereno bene così siamo sulla buona strada queste le parole dunque di Massimo Oddo vediamo ora il Teramo una coppa amara un solido cittadella espugna il Bonolis bianco-rossi imballati dai carichi di lavoro e con un'intesa ancora da affinare qualche lampo a inizio e fine gara non basta i padroni di casa per andare avanti nel torneo la reazione nel dopogara la delusione di Scipioni ci tenevamo tanto adesso questa serata dovrà servirci da lezioni il terzino e l'inchiesta arrivano notizie contrastanti ho un'ansia pazzesca ha dichiarato appunto in sala stampa Stefano Scipioni le parole di Scipioni cresceremo ma serve qualche innesto proprio sul fronte dell'inchiesta il Catania patteggia cosa cambia ora per il diavolo chiacchio deposita le memorie difensive di Presidente e di S vediamo ora il centro prima di andare a vedere immagini e interviste proprio della gara del Bonolis ecco qui il centro un teramo incompleto stenta ed è eliminato il Cittadella passa con merito al Bonolis sfuma la sfida all'Atalanta primo tempo sotto ritmo dei Biancorossi incapaci di attaccare a sinistra grave errore di Tonti sullo 0-1 ripresa d'assalto ma infruttuosa creata una sola palla goal poi le parole del Presidente Campitelli ma più che altro è stata una battuta tra primo e secondo tempo quando si è un attimo avvicinato nell'area appunto stampa forse è la mia ultima volta tra mezzi sorrisi e comunque un velo di preoccupazione che non si può nascondere a poche ore dal processo sportivo il dopo partita Vivarini ci serve qualche innesto importante ma il tecnico non vede nero la società lo sa e possiamo migliorare tanto andiamo a vedere anche le pagelle ci sono insufficienze per il portiere Tonti per l'attaccante da Silva per l'esterno di Matteo e per l'altro attaccante Donnarumma sei per D'Agostino sufficienze poi per tutti gli altri in particolare bene il capitano Speranza sei in mezzo anche per Scipioni e Cenciarelli e allora anche qui diamo spazio alle immagini e poi alle interviste ecco qui l'ingresso in campo delle squadre il Teramo con un 3-5-2 con Rigione ed Emperor ai fianchi di Speranza con Scipioni e Di Matteo sulle fasce con Amadio Bartolomei e Cenciarelli internamente davanti Donnarumma e D'Agostino nel Cittadella c'è Coralli al centro dell'attacco sostenuto dal Baby Bizzotto che sarà l'uomo partita al diciottesimo la migliorazione del Teramo con anche l'unico intervento importante compiuto dal portiere ospite Alfonso al diciottesimo dopo la sgruppata di Scipioni la respinta corta della difesa il tiro di D'Agostino e la parata in due tempi bella e non facile di Alfonso e poi guardate il Teramo come prende il gol dello 0-1 al ventiduesimo da un'azione d'angolo Teramo sbilanciato parte di rimessa il Cittadella da Minesso a Benedetti in profondità per Bizzotto pasticcia Noemperer e Tonti Tonti liscia l'intervento e Bizzotto ne approfitta per segnare il gol del vantaggio del Cittadella Teramo che sarà generoso ma non riuscirà a creare delle importanti palle gol di qui alla fine della partita anzi al terzo della ripresa come stiamo per vedere Coralli avrà una grande chance su invito di Bizzotto ma qui non tiene fede al suo soprannome di Cobra e tira a lato Claudio Coralli nei minuti di recupero due mezze opportunità per il Teramo qui un cross di Scipioni una respinta e poi il tiro già battato da Calvano con la respinta di Alfonso e subito dopo al quarantasettesimo la punizione alta di Bartolomei nel terzo e ultimo minuto di recupero il neo entrato Jalov andrà a siglare il gol del 2 a 0 Jalov che sfrutterà la sua velocità prende di infilata Emperor qui vediamo va via a tutta velocità e poi grandestro all'incrocio dei pari sorpreso Tonti e dunque gara in ghiaccio con il Cittadella che passa 2 a 0 e giocherà in casa dell'Atalanta ma il Teramo sarà comunque applaudito nel finale di gara dalla curva una curva che ha incitato dal primo all'ultimo minuto la squadra e visto il momento difficile non tanto in campo quanto fuori dal campo la curva non vuole far mancare il proprio apporto il proprio sostegno e quindi questo è il saluto alla squadra dopo la sconfitta con il Cittadella e allora subito nella sala stampa del Gaetano Bonolis per le dichiarazioni dei due tecnici Vivarini e Venturato Mister avevamo parlato in settimana era una partita comunque difficile per come arrivava il Teramo a questo appuntamento la generosità non è mancata Teramo però inconcludente no 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 noi dobbiamo in questo momento qua prendere le cose positive di questa squadra di quella della prestazione che abbiamo fatto oggi siamo a due settimane da inizio del lavoro quindi chiaramente non possiamo essere brillanti non possiamo essere pronti a fare delle partite importanti però la cosa che mi è piaciuta è che si è visto una squadra che potenzialmente può migliorare tantissimo quindi questa è la cosa che ci tenevo quindi prendiamo le cose positive analizziamo analizziamo gli errori perché chiaramente per avere una squadra solida una squadra che possa dire la sua in un campionato così importante bisogna migliorare tutti gli atteggiamenti tutte le giocate per esempio il gol che abbiamo preso è un gol di inizio anno cioè proprio del calcio d'agosto insomma quindi per il resto abbiamo tenuto molto molto bene il campo quindi questa è una cosa positiva è una squadra fisica solida quindi una volta che metti a posto i meccanismi secondo me possiamo far bene a livello di preparazione atletica che indicazione ha dato questa partita meglio o peggio di come si aspettava lei ma no ti dirò io pensavo che avessimo avuto problemi di tenuta mentre invece lì abbiamo siamo andati abbastanza bene però non sono i ritmi che piacciono a noi noi dobbiamo giocare a ritmi più alti è chiaro che in questo momento qua non lo possiamo fare mister una vittoria meritata avete rischiato davvero poco se non nulla sì abbiamo mantenuto bene il campo sempre equilibrati chiaramente anche noi non è che siamo al top della condizione fisica per cui temevo che ci potesse essere un momento in cui andassimo in difficoltà invece siamo riusciti a tenere bene sempre belli compatti ci siamo allungati raramente questo ci ha un po' supportato aiutato a finire la partita bene rischiando quasi niente avevamo magari all'inizio del secondo tempo avevamo avuto due occasioni importanti potremmo far gol però è un momento il calcio in questo momento di agosto quindi dobbiamo sicuramente mantenere i piedi per terra e sapere che abbiamo ancora tanto da lavorare questo sicuramente sul centro Terramo la B da difendere la difesa darà battaglia il Catania verso un patteggiamento di favore Lega Pro con penalizzazione ma a Bodi il presidente della Lega di Serie B insorge niente sconti a chi tradisce il calcio si comincerà domani a Roma con il processo del club siciliano coinvolti anche Arbotti e Diluzio mercoledì toccherà i biancorossi il silenzio tutto da decifrare del DS sospeso Marcello Di Giuseppe poi la Virtus Lanciano che è una Virtus brutta di notte rossoneri sottotono eliminati dalla competizione da una Juve Stabia concreta decidono le reti di Gomez e di Gatto e peggio di così non si poteva fare il tecnico D'Aversa non salva nessuno e su Iemmello escluso dice nessun caso le pagelle tante insufficienze aridità Amenta Vastola Crecco Bacinovic Di Cecco Fofanà Padovan e Di Francesco tutti sotto la sufficienza poche invece le sufficienze quelle di Filippo Aquilanti Mammarella e Lanini andiamo a vedere anche sul messaggero cosa si dice appunto della prestazione della Virtus Lanciano un brutto Lanciano va fuori dalla Coppa i rossoneri ma in partita la Juve Stabia spugna il biondi con una rete per tempo nel finale sfiorato il pari su Autogol ma poi gli ospiti siglano il 2-0 escluso Iemmello che in realtà veniva dato in formazione nel pre-partita D'Aversa Furioso peggio di così non si poteva fare il tecnico ci sono stati superiori in tutto Crecco uno degli ultimi arrivati dice il gruppo c'è e allora andiamo a vedere anche in questo caso i riflessi filmati della partita Lanciano in campo con aridità tra i pali poi di Filippo Aquilanti Amenta e Mammarella in difesa Bastola con Bacinovic e Di Cecco in mediana in attacco il tridente di Francesco Fofana e Lanini di contro la Juve Stabia di Ciullo che passerà in vantaggio al 22esimo questa è l'immagine appunto del Biondi con la curva dei sostenitori rossoneri questo è il gol del vantaggio della Juve Stabia con il colpo di testa di Gomez intervento non proprio precisissimo da parte di Arita Virtus Lanciano che ancora a caccia di un portiere si fa il nome di Cragno ma anche il nome di Guerrieri e di altri questa è una parata di Russo su una punizione di Bacinovic poi nel secondo tempo una punizione di Mammarella con la facile presa di Russo un'altra opportunità su azione d'angolo per la Virtus Lanciano che in realtà però incasserà proprio al 93esimo il gol del raddoppio della Juve Stabia con Gatto Virtus come avete visto sbilanciata sull'azione d'angolo e appunto Gatto va a siglare il gol dello 0 a 2 che chiude definitivamente i conti e va ad esultare sotto il settore occupato dai tifosi stabiesi dunque Juve Stabia che passa il turno e affronterà l'Alessandria che ha vinto il derby pianontese con la Pro Vercelli per 2 a 1 questo è il fischio finale possiamo scendere nella sala stampa del Biondi ad ascoltare le parole del tecnico Roberto D'Aversa io penso che le sconfitte non siano mai digeribili a prescindere se possa essere campionato Coppa Italia perché comunque penso che quando una squadra va in campo deve andare sempre per cercare di fare risultato perché è troppo importante e per quanto riguarda la prestazione di stasera non c'è niente da salvare dove la Juve Stabia c'è stata superiore sia a livello tattico sia a livello fisico e anche a livello tecnico quindi c'è poco da dire bisogna guardare l'aspetto positivo che peggio di così non si può fare si può solo migliorare sicuramente la condizione fisica nella categoria di differenza di categoria ha importanza però non può giustificare una prestazione del genere a maggior ragione dove magari si può essere in difficoltà perché magari la squadra avversaria sta meglio di noi allora a maggior ragione bisogna cercare di ragionare e cercare di fare le cose più semplici possibili noi invece magari abbiamo provato a far poco di quello che magari siamo capaci di fare quindi il ramarico è per non averci neanche provato e magari aver fatto il gioco di una squadra avversaria che magari in questo momento stava meglio di noi e stava giocando meglio di noi strutturale questa squadra cosa necessita ancora? La società sa delle caratteristiche tecniche e morale di cui ha bisogno questa squadra quindi lo sanno benissimo e quindi una brutta figura del genere può sfronare la società ad accontentare casomai con più forza le richieste del mister Io non penso che ci sia bisogno di una sconfitta per capire di cosa ha bisogno questa squadra e ripeto oltre a rimpiazzare i prestiti due giocatori di nostra proprietà sono andati via quindi ripeto la società sa quello che deve fare a tempo fino al 31 di agosto per cercare di metterci in condizione di ottenere il nostro obiettivo che è quello della salvezza è chiaro che ricordiamoci che nonostante avessimo fatto una stagione esaltante siamo arrivati a tre punti davanti le squadre retrocesse quindi quello che dico è che sicuramente sarà un campionato di sofferenza quindi siamo tutti uniti e compatti a maggior ragione Per l'Aquila Batosta al Piola l'Aquila dura un tempo poi prende cinque schiaffi il Novara di Baroni è troppo forte per il Rosso Blu che nella ripresa si sfaldano e perdono di gole A del portiere Zandrini evita un passivo peggiore infatti nonostante le cinque reti al passivo prende sette il portiere Aquilano poi tutte insufficienze quella più grave per Manuel Mancini quattro e mezzo sei ed è la seconda sufficienza della serata per Ceccarelli andiamo a vedere sul messaggero l'Aquila travolta sul campo del Novara la squadra di Perrone resiste solo un tempo ai piemontesi viene eliminata e torna a casa con una sconfitta pesantissima troppo forte la formazione di Baroni che ha messo in mostra gli ottimi evacue signori solo San Domenico si rende pericoloso incassata la seconda reti Rossoblu non hanno trovato la forza per reagire poi ancora per la serie D Ronci Chieti giovane saremo protagonisti ma niente pressioni ieri Neroverdi sconfitti Namicheuri per 2-1 a Pineto possiamo diventare una formazione ambiziosa ma i ragazzi devono fare esperienza dice il tecnico del Chieti e poi è stato il giorno anche delle svolte di Popoli e alle svolte Fattorini batte tutti il pilota Umbro su Osella ha vinto il duello con Kubeda facendo segnare un doppio record di Manche e complessivo primo abruzzese in gradatori è Vincenzo Ottaviani ma il miglior tempo lo ha fatto segnare Carlo Toschi e poi ancora in basso Beach Volley Moro e festa per Di Silvestre e Ottaviani per il beach femminile Monica Lestini seconda agli assoluti siamo così alla fine di questa nostra rassegna stampa di mattino 6 io ringrazio Maurizio Daguì in regia ringrazio voi che ci avete seguito vi ricordo gli appuntamenti alle ore 14 e alle ore 19 con le due edizioni principali del TG6 buona giornata grazie a tutti grazie a tutti